Negozi, mercati e mercatini si adeguano alla situazione delle zone rosse e arancioni. In alto piano di Asiago, per gli espositori dei tradizionali appuntamenti natalizi, nasce una piattaforma web. Dove poter appunto visitare questi negozi in maniera virtuale, acquistare direttamente in questi negozi virtuali, evitando così di fatto gli assembramenti in centro o gli assembramenti famosi in tutti i negozi. L'adesione gratuita per i negozianti permette di raggiungere a distanza coloro che abitualmente trascorrevano le vacanze invernali sulle nevi dei sette comuni. Tutto è virtuale ma altrettanto allettante. Entrando nel link mercatini-altopiano.piasac.com potrete trovare tutte le attività dell'altopiano che si sono iscritte e che occupano i loro prodotti, creando così un contatto diretto tra il commerciante e il cliente per creare una sorta di legame che vada oltre le restrizioni causate dai Covid.